Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Farò calare la mia vendetta sopra di te. Cazzo, il segretario di Stato ci guarda. Diciamo che tipo la conosco, ma non si ricorderà di me. Il segretario Field vuole parlare con lei. Noi accettiamo solo donazioni. Mi faccio vedere dai turisti una donazione minima esentasse. Nella mia testa. Questa casa era la casa della mia famiglia. Io e te abbiamo una faccenda in sospeso. Parole sacrosante. Siamo pompieri paracadutisti. I vigili del fuoco più addestrati del mondo. Faremo come dico io e lo faremo ora. Il mio nome è Alice e sono stata catturata dall'ombrella. Ti abbiamo usata per perfezionare il virus. Nel sospetto si tratti di omicidio. Tu sai qualcosa, parla. Non ho eliminato nessun sospettato. C'è busto per un'altra persona. Andiamo, forza! Un solo movimento strano e vi beccate una pallottola. Patrice, mi dispiace molto per la tua perdita. È colpa tua! Cambio l'Italia. E come? Come al solito. Ma cazzo. Ha istinto. Stai bene? Perché non parli? Telefono carico, telefono carico. Assisterai a delle cose, sentirei delle cose che devono restare in questa famiglia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.